Anche quest'anno, come avviene da decenni, rabbini da ogni parte del mondo sono arrivati a Santa Maria del Cedro, in Calabria, per selezionare i cedri perfetti destinati alla celebrazione del Sukkot, una delle festività più importanti della religione ebraica. Il Sukkot, noto come la festa delle capanne, si svolgerà quest'anno dal 16 al 23 ottobre 2024. Il cedro è uno degli elementi fondamentali per il Sukkot. Ogni famiglia, durante la preghiera, tiene nella mano destra un cedro a forma di cuore, con il peduncolo rivolto verso l'alto, simbolo di perfezione spirituale. Il cedro, utilizzato per questa celebrazione, deve rispondere a standard rigorosi e la varietà più apprezzata è il cedro diamante, che cresce esclusivamente lungo la riviera dei cedri. Tra i rabbini che ogni anno giungono a Santa Maria del Cedro spicca la figura di Rav Moshe Lazar, con oltre 90 anni e una presenza costante in Calabria, dove da decenni seleziona personalmente i cedri destinati al Sukkot. È il padre del rabbino capo di Russia, Berel Lazar, e ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Santa Maria del Cedro, in riconoscimento del suo legame profondo con questa terra. La raccolta di quest'anno è quasi terminata e Rav Moshe Lazar, insieme a suo figlio, ha visitato per l'ultima volta i campi per controllare gli ultimi frutti. I cedri selezionati verranno spediti in tutto il mondo, portando con sé un pezzo della tradizione calabrese nelle comunità ebraiche di ogni continente.